no, sai com'è no? li avrei cascato, no, niente ah, ok, allora ragazzi, perfetto usiamo il cerco del taglio di legno così tagliamo un po' la legna vai vai, bello mio legna barbari se sapete che cosa ci si fa con la legna dovrebbero scrivere qui sotto per favore nei commenti perchè proprio non ho idea stavo sfruttando troppo peso ecco, lo sapevo vediamo di liberarci di qualcosa adesso ok vediamo ok, allora intanto vediamo che cosa ci abbiamo oh, ho preso 1,35 allora, adesso non ci facciamo niente lì 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 Ok, è molto bassa così, allora, facciamo un po' la foggia del fabbro, diamo un po' quello, niente, ferro, niente, da nulla, perdo, niente, gioielli, nada, allora, vediamo, banche, banche, no, a mola, adesso si va per gli armi, sì, esatto, per il momento niente, allora, 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 adesso non sapete cosa, ah no, scomprensivo nella foggia, ok, perfetto, questo, poi mi pare, sì, si doveva andare lì qui, ok, qui ci abbiamo, vino, ah beh, vino, ah sì, dai, il tavolo vendiamo tutto, vedi che ci credo, patate cotte, coniglio, 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 ah, la mia tura, pane, pelle di schiera, patata, patata, sensatela tenuto, i piatti con le sgommate, sono bene, ah, allora, ci vediamo, beh, messo in pallo, dai, non si attaccate ai, ah, è finito, ah, ok, ragazzi, siamo usciti, li sta salvando, salvavendo, ok, ha salvato, perfetto, siamo, siamo usciti, non so neanche dove siamo, sì, sì, c'è la mappa del mondo, perfetto, completato, ah, era una missione, Sheriff, si impedeva tutti 24, papà, un poquito la mia, un poquito la mia, andò, a un'altra cosa, possiamo vedere, sono esplicitibili, allora, ah, vero, va, la mia, mi chiedeva, dobbiamo andare qui adesso ho salvato ed esco quindi per il momento finisce qui il gameplay appena ricomincio provo a giocarci a 1370 con fraps attivo quindi vediamo come va sinceramente speriamo bene se va bene continuerò comunque a farla a 1370 perchè comunque si vede molto meglio queste cose qui per esempio vengono eliminate per la maggior parte ovviamente comunque ve l'ho detto il computer è vecchio di 5 anni quindi ha bisogno di qualche ridocchino appena ci sono i soldi si pagano quindi ci vediamo al prossimo video di Skype ciao